I miei più rispettosi omaggi, il mio nome è Eleonora d'Arborea. Un tempo ho governato l'ultimo dei grandi giudicati della Sardegna. Oggi sono qui per raccontare la nostra storia, per riportare alla luce il passato e per far risplendere il patrimonio della mia amata isola. Cominciamo dal principio, nell'VIII secolo, quando la Sardegna viveva sotto il dominio bizantino. Un tempo l'isola era stata un crocevia di civiltà. I fenici, i cartaginesi, i romani, avevano tutti lasciato il loro segno e ora i bizantini, dopo aver cacciato i vandali dalla Sardegna, tenevano le redini del potere. Ma i bizantini erano lontani e impegnati su altri fronti e la Sardegna, dimenticata e trascurata, a seguito di continue incursioni musulmane dal mare, che portavano scompiglio, instabilità e terrore nella popolazione, fu costretta a intervenire autonomamente, pertanto iniziò a forgiare il proprio destino. In questo contesto, sorsero i giudicati. Furono una risposta alla necessità di autogoverno in assenza di un controllo centrale, una risposta alle pressioni esterne da parte dei pirati saraceni e delle altre minacce. Ma non erano solo regni. Erano, in effetti, una delle prime forme di governo democratico al mondo, a distanza di secoli dalla gloriosa democrazia dell'antica Grecia. Il giudicato era un'entità autonoma, governata da un giudice, o iudiche, eletto o confermato dal popolo e dalla nobiltà. Il iudiche non era un re, ma un governatore, un arbitro di pace e giustizia, un difensore del territorio e della gente. In un mondo dominato da monarchie assolute, i giudicati della Sardegna erano un faro di democrazia. Nell'isola sorsero quattro giudicati principali, Cagliari, Torres, Gallura e Arborea. Ognuno era unico e aveva le sue peculiarità. Cagliari, il più grande e forse il più potente dei giudicati, si estendeva dalla città di Cagliari fino alla regione del Sulcis Iglesiente. Era un regno prospero, noto per il suo fervore commerciale e culturale. Noto anche come Pluminos o Santa Igia. Era una potenza da non sottovalutare. Torres, il giudicato del nord, era conosciuto anche come Logudoro. Le sue città, come Porto Torres e Ardara, erano luoghi di potenza e prestigio, simboli dell'autorità del giudice. Gallura, nel nord-est dell'isola, era un regno di forti contrasti. Le sue terre, selvagge e aspre, erano abitate da gente tenace e coraggiosa. Le sue fortezze erano tra le più impenetrabili dell'isola, simboli della resistenza gallurese. Infine, Arborea, il giudicato che ho avuto l'onore di governare. Situato nella parte occidentale dell'isola, Arborea era un regno di bellezze naturali e di forza spirituale. I suoi guerrieri erano tra i più temuti e le sue leggi erano rispettate in tutta la Sardegna. I giudicati erano formati da un insieme di comunità, o curatorie, ognuna delle quali contribuiva a formare il regno. Ogni curatoria era guidata da un curatore che rappresentava l'autorità del giudice a livello locale. Le curatorie erano spesso organizzate attorno a una città o a un castello che serviva da centro amministrativo. Il giudice, o iudiche in sardo, era la figura chiave del giudicato. Non era un monarca nel senso tradizionale del termine. Piuttosto era un capo eletto che esercitava il potere esecutivo, legislativo e giudiziario. Il iudiche era spesso eletto dal popolo e dalla nobiltà del giudicato, anche se in alcuni casi la carica poteva essere ereditaria. Tuttavia, il iudiche non governava da solo. Era coadiuvato da un consiglio di notabili chiamato Corona de Logu, che contribuiva a prendere le decisioni e a formulare le leggi. Questo era un altro aspetto che sottolineava l'elemento democratico dei giudicati. Il potere non era concentrato nelle mani di un singolo individuo, ma era distribuito tra diverse persone e istituzioni. Uno degli strumenti più importanti del giudicato era la Carta de Logu, un codice di leggi che regolava la vita del giudicato. La Carta de Logu era un testo avanzato e progressista, che rifletteva i valori di giustizia e di uguaglianza che tra le sue disposizioni prevedeva la protezione dei diritti delle donne, la limitazione del diritto di vendetta e la regolamentazione della proprietà terriera. I giudicati erano, in sostanza, dei regni democratici, dove il potere era condiviso e le leggi erano fatte per il bene comune. In un'epoca di autoritarismo e di potere centralizzato, i giudicati della Sardegna erano un faro di democrazia e di libertà. Ognuno di questi giudicati aveva le sue leggi e tradizioni, i suoi rapporti con Galei altri. Nonostante le rivalità e i conflitti, c'era una forte identità sarda, un senso di unicità in mezzo al mare di culture che ci circondava. Ma come tutte le storie, anche quella dei giudicati ebbe una fine. L'inizio del XIV secolo segnò il declino dei nostri regni. I conflitti interni e le minacce esterne, soprattutto l'espansione della corona di Aragona, erano troppo grandi per resistere. Arborea fu l'ultimo giudicato a resistere. Io stessa ho guidato le nostre forze in quella battaglia finale, nella speranza di salvare il nostro modo di vivere. Ma nonostante il nostro coraggio e la nostra determinazione, la battaglia di Macomère del 1478 segnò la fine dell'indipendenza sarda. La sconfitta fu amara e portò all'inizio del dominio spagnolo sull'isola. Ma il ricordo dei giudicati non è morto. Vive in ogni sardo, in ogni pietra delle nostre antiche fortezze, in ogni parola della nostra lingua. La storia dei giudicati è la storia della Sardegna, una storia di coraggio e resistenza, di democrazia e autodeterminazione. E non importa quanto tempo passi, non importa chi governi la Sardegna, la storia dei giudicati vivrà per sempre. Questo è il nostro patrimonio, la nostra eredità. E io, Eleonora d'Arborea, l'ultima giudicessa, vi esorto a ricordare, a onorare, a custodire la nostra storia. Perché senza il passato non c'è futuro. Tenete in mente questo spirito. Mi rivolgo alle nuove generazioni. Lottate e fate valere sempre i vostri diritti. Lottate e fate valere sempre i vostri diritti.